Dopo il nuovo piano di sviluppo rurale, la Commissione europea ha adottato anche il programma operativo plurifondo del Molise, 153 milioni di euro, 106 per il FESR, 47 per l'FSE. Ad ottenere l'approvazione col Molise anche Sardigna e Friuli Venezia Giulia, tre amministrazioni, ha dichiarato la commissaria degli affari regionali Corina Cretu, che hanno delineato le loro azioni sulla base di specificità e specializzazioni intelligenti dei territori, in modo da valorizzare le risorse economiche, ambientali, energetiche e turistiche di cui dispongono. Il Molise rileva ancora a Bruxelles, investirà principalmente sulla competitività del sistema produttivo, 32 milioni, per la creazione di nuovi posti di lavoro, 23 milioni, In ricerca e innovazione tecnologica, ancora 23 milioni, per l'efficientamento energetico e le rinnovabili, 20 milioni, sulla promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, 13 milioni, per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà, 12 milioni, e sulla formazione professionale, 9 milioni. Per l'Europa i risultati attesi sono significativi, 411 posti di lavoro, 109 collaborazioni tra imprese e centri di ricerca, 400 imprese che beneficeranno di un supporto, 1.309 opportunità professionali per i giovani. Risorse destinate al lavoro, ripresa e sviluppo del nostro Molise, con un'attenzione nuova alla sostenibilità e alla lotta alla povertà, e il commento soddisfatto del Presidente della Regione, Paolo Frattura, e del suo Vice, Michele Petraroia, che è anche assessore al lavoro. La concomitanza quasi contestuale dell'adozione del PSR e dei programmi operativi FESR e FSE dà ragione a una visione di insieme, sottolineano, che abbiamo saputo costruire mediante una concertazione continua e reale col partenariato molisano. Questo risultato, merito della struttura regionale, in cui va il nostro pieno e sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata, al di là dell'evidente valore assoluto, si fa ancora più significativo nel quadro generale di opportunità, ancora Frattura e Petraroia, che come Regione stiamo mettendo in campo, dal PSR al riconoscimento dell'area di crisi, dal cui traguardo ci separano ormai pochi passi, passando per l'attivazione dei primi PON approvati. Una nuova stagione possibile e riconoscibile per risorse e strumenti certi aspetta i cittadini e le imprese del Molise. La strada, concludono il Presidente della Regione e il suo Vice, è stata imboccata. ...programmazione 2015, con il quale vogliamo dare conto di quanto abbiamo già realizzato e annunciare le azioni future che insieme metteremo in campo per la crescita del Molise. Il documento...